Foto di rito e facce sorridenti nella redazione del Corriere di Arezzo per la premiazione dell'Arettino dell'anno. Una iniziativa del quotidiano che riscuote ogni anno sempre più successi. Ha vinto il dottor Pierluigi Rossi e la cosa che noi abbiamo subito notato e interpretato come redazione non è stato un premio alla carriera per quanto Pierluigi Rossi si potrebbe dire che esiste da sempre. Invece è proprio un premio per la sua modernità, il suo essere anche avanti, il suo essere impegnato in modo dinamico per questa città. Lui è un divulgatore ma anche un produttore, un creatore di iniziative, eventi, idee e progetti che non mancherà di sorprenderci anche nel 2017. E poi questo premio porta sempre avanti anche bei volti, figure importanti, modelli come Marconcini che è stato veramente una figura, un modello di sportivo che ci ha fatto appassionare in questo 2016 e che ancora potrà dare tanto, veramente lo sport pulito, un modello da seguire per tanti giovani. E Federico Calvelli che è riuscito a rilanciare un'istituzione come il Circolo Artistico che anche per la longevità di questa struttura poteva aver perso un po' appeal e invece è riuscito a dargli una brillantezza, un fascino che veramente tutti se ne stanno accorgendo in città.